Musica Al lavoro il pontone per ripristinare parte della provinciale 227 tra Portofino e Santa Margherita Ligure obiettivo entro Natale ripristinare la viabilità per i bus navetta Chiuso il termine di presentazione delle domande di risarcimento per il maltempo in Liguria oltre 200 milioni di danni solo per la parte pubblica al vaglio la costituzione di un fondo di garanzia Il linguaggio in parabole è una strada indicata agli insegnanti dalla biblista Rita Pellegrini per raggiungere i cuori degli studenti l'incontro nei giorni scorsi a Chiavari Leggere il Vangelo nelle case per conoscere e assaporare la bellezza della parola di Dio la proposta per quest'anno pastorale dalle parrocchie di Santa Margherita Ligure Il cammino dell'avvento accompagnato quotidianamente da brevi riflessioni di Don Andrea Buffoli ogni giorno su Telepace la rubrica per vivere a pieno il tempo forte verso il Natale Festa sociale per la società operaia Tommaso Sanguinetti di Lavagna L'ente con i suoi 144 anni di vita continua a promuovere attività di mutuo soccorso per i 250 soci Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio Oggi in apertura andiamo nella zona della Cervara tra Portofino e Santa Margherita Ligure Nelle scorse ore si sono completate le operazioni di montaggio della passerella pedonale che ora dovrà essere collaudata Da questa mattina invece in azione il pontone che sta sistemando i massi a protezione del tratto di strada crollato prima di paraggi L'obiettivo della città metropolitana è quello di riaprire la viabilità fino a questo tratto di strada entronatale in modo da permettere l'utilizzo dei bus navetta Il primo servizio Alle nostre spalle il pontone per la posa dei massi l'obiettivo è chiudere questa voragine per poter riaprire il transito anche ai bus che poi effettueranno la navetta Sì, l'obiettivo appunto quello che si diceva di consentire l'arrivo dei mezzi ATP in modo da ripristinare un collegamento con un mezzo a monte e a valle del problema della strada che è collassata e ridare così l'accessibilità a Portofino In azione il pontone, da dove arrivano i massi come verrà portata avanti questa operazione? Il pontone arriva da Chiavari questo mezzo ha già cominciato a operare nei giorni scorsi in realtà noi già dal 30 il giorno dopo il problema della mareggiata abbiamo iniziato i lavori da Regina Elena si era formato una voragine che non consentiva l'accesso ai mezzi al depuratore che aveva subito appunto dei danni importanti siamo partiti da lì per ridare la funzionalità a quell'impianto che ancora oggi ha bisogno di interventi importanti Che tempi si prevedono per questo intervento e poi per una riapertura parziale anche ai pedoni e anche ai motorini che comunque qui arriveranno a avere il contatto con Santa Margherita? Per la riapertura siamo anche legati alle condizioni meteomarine come possiamo vedere il pontone lavora in condizioni di mare calmo nei prossimi giorni comunque intendiamo aprire la passerella ai pedoni con un controllo rispetto agli orari e un presidio per Natale vogliamo ampliare questa possibilità di accesso appena chiuso questo punto pensiamo di poter attivare il servizio di bus navetta che quello comunque chiederà una risposta in termini di accessibilità importante Come anticipato è ormai concluso l'intervento di costruzione della passerella pedonale che toglierà Portofino dall'isolamento Martedì è in programma l'inaugurazione con le istituzioni ma per la riapertura al pubblico occorrerà attendere ancora sentiamo Andrea Capitani Alle nostre spalle la passerella pedonale è terminata a tempo di record martedì ci sarà l'inaugurazione da parte delle istituzioni ma non sarà ancora accessibile al pubblico Sindaco quando si potrà vedere le persone passare e vedere collegato almeno pedonalmente Portofino con Santa Margherita? Sì, martedì facciamo il primo passaggio abbiamo sentito ieri l'azienda che ha fornito la passerella ha detto che lunedì vengano a fare le finiture che mancano ancora e poi ci sarà il collaudo in seguito martedì passiamo, martedì 4, le istituzioni verranno a Portofino facciamo questo passaggio tutti insieme che è un bel segnale perché sono tutte le persone che hanno lavorato intensamente in questi giorni per creare questo primo presupposto di togliere Portofino dall'isolamento adesso si valuterà qualche giorno, un attimo, dal punto di vista di gestione della passerella adesso ci incontreremo noi, il Comune di Santa Margherita, città metropolitana che è la proprietà della strada per normare i passaggi l'idea sarà quella comunque di poter avere un uso abbastanza aperto della passerella per il periodo natalizio un lavoro di squadra che ha visto le amministrazioni regione, città metropolitana insieme Portofino e Santa Margherita due realtà che comunque sono sempre più vicine sì davvero, credo che come eravamo unite prima nella collaborazione per fare cose insieme adesso siamo uniti nella disgrazia per cercare di rispondere positivamente e mi sembra che questa sinergia sia stata molto importante e abbia dato risultati concreti non solo tra Portofino e Santa Margherita ma anche con città metropolitana e regione Liguria La passerella toglierà Portofino dall'isolamento ma occorre ancora lavorare? C'è il depuratore da ripristinare? La viabilità comunque fino a qui è ancora abbastanza compromessa che tempi vi siete dati? Altanto è molto importante in effetti che la passerella già da questo Natale possa arrivare paragge Portofino dall'isolamento e dunque consentire anche di svolgere attività e dare servizi nel borgo di Portofino poi certo per arrivare fino a qui si passa attraverso l'area della Cervara dove ancora abbiamo una serie di situazioni da risonare penso al depuratore che in realtà già adesso sta lavorando in pretrattamento dunque non sta inquinando sta lavorando in maniera funzionale c'è ancora bisogno di riuscire ad andare nella condotta quella lunga e non nella breve e c'è ancora necessità di rimettere in sicurezza tutta la scogliera mare stiamo trattando con i reti per concordare le modalità e i tempi dell'intervento In questa mattina a Rapallo è stato presentato il progetto di solidarietà Il Tiguglio non molla attraverso un logo si darà la possibilità a chi vorrà farlo di raccogliere fondi per sostenere le imprese del Tiguglio occidentale danneggiate dall'amareggiata il simbolo racchiude una grande onda che si trasforma in un cuore il piccolo pino dello scoglio della carega che simboleggia la resistenza del territorio e il tondo di un sole che nasce riportati poi i nomi dei quattro comuni Zoagli, Rapallo, Santa Margherita, Ligure e Portofino a rappresentare la sinergia di un territorio che non intende lasciare indietro nessuno i fondi raccolti saranno versati su un unico conto corrente e ripartiti tra le attività maggiormente danneggiate individuate facendo riferimento all'elenco delle imprese colpite che è presente alla Camera di Commercio di Genova la prima fase di raccolta terminerà il 31 gennaio 2019 e si è chiuso il termine di presentazione delle richieste di risarcimento danni per gli eventi meteorologici di fine ottobre in tutta la Liguria sono necessarie opere di ripristino per oltre 200 milioni di euro sono allo studio varie forme di aiuto è scaduto il termine per presentare le schede della dichiarazione dei danni a seguito della mareggiata di fine ottobre è possibile quantificare per la parte pubblica quanto danno ha avuto la Liguria? Guardi, una prima stima sembrerebbe attestarsi sui 200 milioni di euro su base regionale quindi un danno enorme e l'ordinanza di protezione civile porta con sé una dotazione di 53 milioni di euro per tutta l'Italia L'ordinanza di protezione civile quale dotazione finanziaria porta con sé per il ripristino dei danni? Porta una dotazione di 53 milioni di euro su base nazionale alla Liguria in proporzione spetteranno circa 6 milioni e mezzo barra 7 milioni di euro a fronte dei 200 milioni di danni complessivi è evidente che bisognerà attingere altre risorse ed è quello che il Presidente Totti sta facendo cercando in conferenza Stato-Regioni di promuovere una norma primaria che porti con sé una dotazione tale da poter far fronte in maniera abbastanza adeguata ai danni Oltre a questo la strada che Regione Liguria sta percorrendo è quella della costituzione di un fondo di garanzia? Certo perché tante imprese che sono andate distrutte hanno una difficoltà enorme ad accedere al credito e quindi la costituzione di un fondo di garanzia è un elemento molto importante per poter ripartire anche alla luce del fatto che molti operatori balneari hanno la scadenza cioè tutti gli operatori balneari hanno la scadenza delle concessioni al 2020 quindi le banche hanno difficoltà ad accordare credito in una situazione di questo tipo l'elemento però a mio avviso molto importante è che si sta lavorando per far sì che la proroga delle concessioni che poi non è una proroga ma è una proroga dovuta all'emergenza quindi non si bypassa la Bolkestein sia calibrata in funzione dell'investimento che fa il proprietario il titolare della concessione fino a un massimo di 10 anni e questo darebbe respiro per poter ammortizzare l'investimento La cronaca oggi un uomo ha compiuto un volo di 4 metri mentre stava lavorando nelle fasce davanti a casa si tratta di una persona di 73 anni che questa mattina torna alle 10 è caduta da un terra pieno dentro un intercapedine riportando nella caduta un trauma cranico e un trauma alla schiena l'uomo sempre cosciente è stato soccorso dai medici del 118 e poi portato in elicottero all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso l'incidente è avvenuto a Piani di Ognio nel comune di Neirone i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A7 per un incidente stradale e un auto articolato per cause in via di accertamento si è ribaltato dopo la galleria Campora scendendo verso Genova l'autista è riuscito a uscire autonomamente il camion ha occupato completamente la carreggiata e ha perso dei serbatoi una ingente quantità di gasolio fortunatamente non trasportava merce pericolosa il traffico è stato bloccato per permettere le operazioni di rimozione del mezzo siamo all'informazione religiosa veniamo in diocesi apprezzare la bellezza dell'annuncio del Vangelo è uno dei compiti che gli insegnanti soprattutto quelli di religione devono cercare di trasmettere ai più giovani una guida al linguaggio più adatto da utilizzare con i ragazzi è stata indicata dalla biblista Rita Pellegrini docente di teologia all'Università Cattolica di Milano nei giorni scorsi si è intervenuta al corso di formazione promosso dall'ufficio scuola della diocesi di Chiaveri l'abbiamo intervistata in che modo l'annuncio del Vangelo oggi può essere accattivante per i ragazzi delle scuole? i metodi per insegnare il Vangelo sono tantissimi oggi ne abbiamo proposto uno abbiamo affrontato le parabole di Gesù e ci siamo fatti una domanda principale perché Gesù parlava in parabole? Gesù parla in parabole perché le parabole illustrano dei comportamenti parlano della vita hanno un linguaggio molto vivo e quindi è molto importante capire quale linguaggio usiamo per parlare di Dio Gesù fa capire che il linguaggio parabolico è il più adatto e poi ancora le parabole sono non solo un metodo pedagogico corretto un metodo per dialogare con tutti con la gente con le folle ma anche per condurre gli ascoltatori a verità più alte e dunque per rivelare il mistero di Dio quindi oggi i docenti a scuola che cosa dovrebbero fare? io penso che i docenti dovrebbero leggere direttamente i testi evangelici e privilegiare soprattutto il parlare in parabole perché appunto è un linguaggio affascinante se le folle erano stupite nell'ascoltare Gesù forse ancora i nostri studenti potrebbero rimanere stupiti appunto ascoltando le parabole di Gesù proposte dai docenti le parabole a scuola già si parla ma che cosa non si sta facendo quindi in questo momento? io credo che sia possibile imparare a leggere più seriamente il testo si sorvola si pensa di saperlo già tutto e invece bisogna entrare nel testo per esempio abbiamo affrontato la parabola del buon samaritano di solito si sorvola sul personaggio del sacerdote della vita per fermarci sul personaggio del samaritano e invece la domanda perché il sacerdote non si ferma perché la vita non si ferma e mettere in luce la loro omissione di bene la mancanza di misericordia che Gesù denuncia come male omettere di fare il bene o male la relazione della biblista Rita Pellegrini sarà trasmessa integralmente domani sera alle 21.10 sul canale 15 di Telepace e ora andiamo a Santa Margherita Ligure le parrocchie cittadine propongono per questo anno pastorale la lettura del Vangelo di Luca in piccoli gruppi di riflessione un cammino che si snoderà anche attraverso momenti comunitari domani c'è il primo di questi ossia il ritiro di avvento sentiamo da dove nasce questo desiderio nasce da una parola autorevole che il nostro Vescovo ci ha affidato a tutti come diocesi il 10 giugno nelle sue linee pastorali che raccolgono il lavoro sinodale di due anni e dunque sentiamo che in questa indicazione forte che lui ci ha dato di formazione e di formazione in particolare sul Vangelo quest'anno quello di Luca passa davvero un po' un soffio dello spirito che ci sembra giusto dover assecondare qual è la modalità pratica in cui si realizzerà questo percorso beh abbiamo scelto di leggere in modo continuo come ci veniva anche suggerito dal relatore al convegno diocesano il Vangelo di Luca credendo che appunto questa lettura continua possa offrire anche contenuti preziosi circa poi l'interpretazione con la raccolta un po' del suo senso e questi incontri di approfondimento come saranno strutturati? Questi incontri sono strutturati in piccoli gruppi di ascolto che vorremmo nascessero il più possibile dentro anche una loro autonomia circa i momenti in cui incontrarsi i luoghi dove incontrarsi e una metodologia semplice potremmo dire quella un po' della lezione divina classica dove si sosta prima sul testo per guardarlo coglierne appunto tutti gli aspetti preziosi poi si cerca di meditare di ascoltare qual è il suo significato e poi di applicarlo un po' alla vita tentando di ascoltare attraverso il testo la parola viva che il Signore rivolge a noi interpellandoci in questo percorso ci saranno anche alcuni momenti comunitari quali saranno? ci sono tre momenti comunitari per tutti per tutte e tre le comunità insieme il primo momento sarà il ritiro di avvento il secondo momento la veglia del Natale e il terzo momento gli esercizi spirituali nella quinta settimana di Quaresima il primo momento comunitario sarà domenica 2 dicembre alle 15 al convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure qual è il programma? inizieremo la lettura del Vangelo di Luca saremo aiutati da Claudia Coll che leggerà i primi nove capitoli dopo la lettura dei nove capitoli di Claudia Coll ci sarà proprio la possibilità suddivisi in gruppo di iniziare l'Alezio sul Vangelo di Luca e poi concluderemo pregando insieme i Vespri domani prima domenica la rubrica di avvento inizia il tempo di preparazione alla Natale in questo percorso ci accompagnerà Don Andrea Buffoli direttore dell'ufficio pastorale liturgica della Diocesi la rubrica il cammino dell'avvento farci sorprendere dalla vita questo titolo proporrà ogni giorno una piccola riflessione di pochi minuti per vivere con più consapevolezza questo tempo forte della vita della Chiesa ogni giorno dunque verrà scandito dalla lettura di brani del messaggio del Papa o dei testi proposti dalla liturgia durante le celebrazioni seguite da un breve commento la rubrica di cui vedete le immagini va in onda nel corso della programmazione quotidiana su Telepace 1 al canale 15 poco prima delle 9.30 del mattino alle 12.43 alle 19.10 alle 20.30 alle 22.45 la società operaia di mutuo soccorso Tommaso Sanguinetti di Lavagna è stata fondata il 23 agosto del 1874 e nell'ambito delle attività promosse nel 1898 fu fondata una scuola di disegno sotto la guida del maestro Tommaso Sanguinetti di cui oggi il sodalizio porta il nome negli anni l'attività del lente è mutata ma è rimasto inalterato lo spirito dell'inizio nel portare gesti concreti di solidarietà verso le persone bisognose recentemente la società operaia lavagnese si è riunita per la festa sociale le interviste festa sociale per la società operaia pranzo sociale con relativa messa che è stata svolta adesso nell'oratorio della Santissima Trinità e dopo ci accingiamo ad andare al pranzo passando sotto la sede che è in via Roma al numero 16 che è la sede di proprietà dal 1926 cosa fate adesso? ora se abbiamo le mani legate come manifestazioni con le nuove normative e leggi aiutiamo soltanto i soci e noi siamo circa 250 effettivi e viviamo alla giornata si può dire siete un bel gruppo però siamo dei più numerosi siamo orgogliosi di essere in tanti e cerchiamo di portare avanti nel migliore nei modi ogni anno festeggiate la giornata vostra con la Santa Messa e poi un pranzo sociale esatto lo ripetiamo da sempre partecipiamo in un numero ristretto perché purtroppo tra quelli che ci sono mancati e tutti gli asciacchi siamo un gruppo di persone piuttosto anziane e cerchiamo di tirare avanti sia la società che le partecipazioni nel migliore dei modi abbiamo visto anche la presenza del presidente della società di Chiavari come tutti gli anni la tradizione vuole che noi invitiamo le consorelle sia della società operaia cattolica e la società Vittorio Leonardi di Chiavari 40.172 passeggeri 21.655 chilometri e 12 corse giornaliere sono i numeri del servizio di bus navetta della linea C2 offerto gratuitamente ai cittadini dal comune di Chiavari in collaborazione con ATP dalla sua istituzione ovvero giugno di quest'anno lo vedete nell'immagine ben riconoscibile visto il successo estivo e l'ultimo proseguo in questi mesi autunnali il sindaco annuncia di voler prorogare l'iniziativa oltre il 31 di dicembre data in cui scade la convenzione stiamo valutando spiega di capo ha la possibilità di estenderla tutto il 2019 ricordiamo che il capolinea si trova presso l'asle 4 in via Ghio di cui partono due percorsi uno verso il lato ponente della città l'altro verso Levante i carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un 44enne residente a Camogli alcuni giorni fa l'uomo mentre era alla guida della sua vettura insieme ad un 53enne di Rapallo ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro lungo la provinciale 227 i due sono stati portati in ospedale a Genova dove si trovano ancora adesso per le lesioni riportate dalle analisi è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico superiore a 2,50 grammi per litro oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza e per aver causato lesioni gravi gli è stata ritirata la patente e gli è stato confiscato il mezzo siamo agli appuntamenti parliamo del Nocciola Day che prende il via già domani a Mezzanego con il mercatino le 10 e la gara di torte a base di Nocciola misto Chiavari l'inizio alle ore 15 l'appuntamento è nella scuola Davide Spinetto ma il Nocciola Day proseguirà anche nel prossimo fine settimana e coinvolgerà Mezzanego ma anche Chiavari sentiamo la Nocciola si conferma un prodotto da valorizzare e anche per puntare sul rilancio del territorio sì la Nocciola è fondamentale per il nostro territorio perché è un po' il motore che ha fatto fare un bel matrimonio eravamo seduti a un tavolo del TTG di Rimini e con l'assessore Ratto abbiamo detto dobbiamo mettere insieme la costa con l'entroterra e quale altro strumento se non la Nocciola un prodotto tipico che si chiama misto Chiavari ma viene diciamo raccolta nel territorio del nostro entroterra nelle nostre tre valli per cui abbiamo dato avvio a due eventi che saranno il pre-Nocciola Day e il Nocciola Day insieme naturalmente con il Parco dell'Aveto che è stato il promotore di questo evento come Nocciola Day per primo diciamo in tutta la Liguria se tratta di due giorni il sabato saremo l'8 di dicembre saremo a Mezzanego alla scoperta dei tesori nascosti di Mezzanego andremo a vedere un Noccioletto coltivato che sarà in fase di potatura andremo a vedere l'Opificio tutti gli antichi macchinari del signor Cogozzo e in ultimo andremo ad assaggiare la torta di Nocciola del bar Pasticceria Macera Borzonasca per cui testiamo sul campo la trasformazione della Nocciola misto Chiavari il secondo giorno cioè la domenica saremo a Chiavari a fare una visita guidata al bellissimo nostro centro storico andremo a fare un laboratorio di pasticceria impareremo a fare i baci di dama con le Nocciole misto Chiavari e successivamente i ristoratori di Chiavari del consorzio questo nuovo consorzio che si è costituito a 6 mani a 8 mani a tante mani diciamo faranno una cena a base di Nocciola misto Chiavari naturalmente sarà presente il loro dolce che è stato presentato al titigine Rimini che è la delizia di Chiavari a base di farina di castagna e di Nocciola misto Chiavari alza le vele con questo motto l'Istituto Maria Luigia di Chiavari invita genitori e studenti ad una giornata di scuola aperta che si terrà domani dalle 15.30 alle 19 la scuola aprirà le proprie porte ai visitatori mostrando tutte le iniziative dalla classe primavera della scuola dell'infanzia sino alle medie tra queste un nido per volare il servizio integrativo per l'infanzia dai 3 ai 24 mesi la scuola Maria Luigia ha la sede in via Santa Chiara 20 a Chiavari e ora vediamo la scheda degli appuntamenti con tutti gli eventi in programma per la giornata di domani e poi ci ritroviamo con lo sport domenica 2 dicembre il grande albergo di Sestri Levante ospita il tradizionale mercatino natalizio con proposte e idee regalo fra cui lavori realizzati dagli ospiti e dalle volontarie dell'Anfas di Chiavari le bancarelle resteranno allestite per tutta la giornata sul piazzale della chiesa di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari dalle 9 alle 19 28esima edizione del mercatino di Natale del riuso a partire dalle 15 sul piazzale della chiesa verranno distribuite le frittelle cucinate dai volontari del comitato festa in piazza il ricavato dell'iniziativa sarà destinato per sostenere le famiglie della parrocchia in difficoltà economica per tutto l'arco della giornata nella palestra della casa della gioventù a Rapallo si terrà il concorso nazionale di danza città di Rapallo primo trofeo Natalia Dudinskaia quarta edizione per la luce del Natale in piazza Aldomoro a Cogorno dalle 10 arti, mestieri e sapori dalle 12 gastronomia dalle 14.30 spettacolo per bambini con Miro Gatti e il circo più piccolo del mondo segue la merenda e l'accensione delle luminarie all'ex convento dell'annunziata di Sestri Levante seconda giornata per pane e olio mostra mercato dei prodotti del territorio dimostrazione di molitura delle olive con frantoio mobile e dalle 16 corso sulla vera focaccia genovese con Ezio Rocchi la Gorà di Lavagna presenta calendario d'autore 2019 su tela e giornale con le opere di Stefano Rogli e Michele De Robertis appuntamento alle 17 nella Sala Rocca sempre alle 17 ma a Chiavari all'auditorium San Francesco sarà conferito il premio Ciavari di poesia il premio Pippo Raffo di fotografia e sarà premiato anche l'autore di una tesi di laurea su tematiche locali è un'iniziativa dell'associazione Castello De Ciavari e dell'amministrazione comunale lunedì 3 dicembre lezione di filosofia ai corsi di cultura di Chiavari con Elvira Landò che affronterà il tema frammenti di un discorso amoroso di Ottima di Mantinea quinta sacerdotessa appuntamento alla Sala Livellara alle 16 Polvere Diamanti e Stelle è il titolo della nuova lezione di Pier Giorgio Prada Moroni all'Accademia Culturale di Rapallo l'inizio alle 16 a Villa Queirolo Celivo offre la possibilità alle organizzazioni di volontariato di seguire un corso di formazione dedicato alla nuova normativa europea sulla privacy appuntamento alle 17.30 al centro Benedetto Acquarone di Chiavari Lo sport iniziamo dai risultati della pallanuoto le partite che si sono disputate oggi sul territorio iniziamo dalla A2 maschile il Lavagna 90 nella piscina di casa è stata battuta 10 a 9 dal Camogli intanto vediamo le immagini realizzate da Luca Castagnola il Camogli subito è partito forte il Lavagna 90 è riuscito a passare comunque in vantaggio almeno per quanto riguarda il primo tempo poi il Camogli è passato avanti il Lavagna è riuscito ancora a raggiungerlo e a pareggiare ma infine il risultato appunto si è fermato sul 10 a 9 per gli avversari miglior marcatore per il Lavagna 90 Cotella invece le altre categorie in A1 maschile la Prorecco ha vinto 17 a 6 contro il Napoli in casa del Napoli infine in A1 femminile il Rapallo Pallanuoto ha vinto in casa del Florenzia 14 a 3 questi risultati anche riportati dal sito della federazione e con la decisione assunta dal TAR della Liguria sembra definitivamente assegnata alla società Chiavarinuoto la gestione della piscina ravera di Chiavari la società verde-blu dopo aver vinto il bando di gara l'estate scorsa ha dovuto attendere la decisione del Tribunale in seguito al ricorso presentato da parte dei concorrenti per i prossimi 5 anni la conduzione dell'impianto di Largo Pessagno spetterà dunque al club chiavarese e ora il calcio dopo la beffa di Cuneo partita che la Virtus Entella dovrà nuovamente giocare a causa di un errore dell'arbitro la squadra tornerà in campo domani al comunale di Chiavari per affrontare il Novara il fischio di inizio alle 14.30 all'intervista di presentazione Francesco della Serie non ci facciamo mancare nulla in questo campionato è arrivata l'ufficialità che la gara col Cuneo verrà rigiocata guardando il bicchiere mezzo pieno potrebbe essere un'opportunità per fare due punti più in classifica sì sì assolutamente perché era giusto fare il bottino pieno a Cuneo non ci siamo riusciti si è presentata questa opportunità tra virgolette ormai la chiamiamo così quindi alla fine forse è un bene per noi anche se comunque quello che ci sta capitando è assurdo perché ne stiamo vedendo di tutti i colori con la squadra anche a Cuneo ha giocato un buon primo tempo partita forte anche nella ripresa siete leggermente calati nel finale ti chiedo se sta diventando pesante anche mentalmente giocare ogni tre giorni oltre che fisicamente naturalmente ma sicuramente giocare ogni tre giorni non è facile però io penso che questo gruppo abbia la forza mentale e fisica per affrontare questo tipo di campionato se è stato un errore da parte nostra a livello di asseggiamento siamo rimasti troppo bassi e poi alla fine quando poi subisci alla fine il gol lo prendi quindi dobbiamo migliorare questa cosa qui però penso che le ultime prestazioni siano in linea con l'inizio del campionato nel senso anche a Siena abbiamo fatto una buona prestazione non è venuto il risultato però la linea da tenere è questa e qui stiamo secondo me stiamo facendo stiamo facendo bene bisogna continuare così domenica al comunale arriverà il Novara detto da tutti come delle corazzate di questo campionato è vero che è un po' attardato in classifica ma sarà una gara che nasconderà moltissimi insidie sì sì il Novara è un grande organico sicuramente lotterà fino alla fine per la Serie B quindi sarà una partita una partita tosta come tutte le altre del resto perché non è mai facile giocare in Serie C perché con le squadre che si chiudono ne abbiamo incontrate tante quindi non è mai facile adesso incontriamo una squadra una squadra forte con una rosa importante e starà a noi di mostrare il nostro valore con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale l'appuntamento con l'informazione torna lunedì mattina alle 7.30 con il buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello grazie per averci seguito buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.